Io conosco gente che è venuta qua con 100.000 euro a 30 anni e si è mangiata fuori tutto in tre mesi. Ciao ragazzi, oggi siamo al Jablito, nella zona nord-est dell'isola, vicinissimi alla Montagna Roja e al Parco Protetto di Corralejo. 5 motivi per venire a Fuerteventura, 5 motivi per non scegliere Fuerteventura. Un clima arido, se vi piace il caldo ma non troppo, è il posto giusto per voi. La meta ideale per bambini e per pensionati. Una leggera brezza che vi dà la possibilità di non sentire il caldo, una media di 23 gradi annuo. Questo è il paradiso per l'essere umano. Temperature minime tra i 14 e i 15 gradi in inverno, in estate con picchi di 33-34 gradi. Fuerteventura non ha l'inverno, due primavere e un autunno. I mesi più freddi dell'anno, febbraio e marzo, scaldandosi aprile, maggio, giugno, picco di luglio-agosto, avendo il top settembre-ottobre con la temperatura anche dell'acqua del mare intorno ai 24 gradi. Uno svantaggio è la retratezza. Qui siamo esattamente negli anni 60 italiani, con tutto ciò che ne può giovare e tutto ciò che può esserne un limite. Questa è una cosa che sicuramente va messa in conto. Prima parte nella mente degli abitanti e poi si protrae. Siamo davvero delle piccole isolette sparse di fianco al deserto della Mauritania, centro-Africa, nell'Atlantico. Il secondo punto a favore è la tranquillità che ti dà quest'isola. Non è un posto che costa meno l'Italia. I vendinii solitamente dicono, no, qui si vive con il 20% di quello che costa in Italia. Il ragionamento non è questo. Uno non sceglie Fuerteventura per risparmiare. Anche perché Fuerteventura, essendo l'isola più ricercata negli ultimi anni, è incredibile perché tutti sono andati a Tenerife, a Gran Canaria. Però poi adesso si sono resi conto che chi va a Tenerife, a Gran Canaria, diciamo io, chi me lo fa fare ad andare a Tenerife, a Gran Canaria? Sto in Italia a quel punto qua. Tutto ne ha alzato i prezzi. Alzato i prezzi degli affitti, alzato i prezzi della benzina, del cibo. Qui è vero, la benzina costa poco, parliamo di un euro al litro, però rispetto a Tenerife ci sono quei 5-10 centesimi che fanno la differenza. Credo sia proprio questo clima, guardate, abbiamo chilometri di costa in cui non c'è davvero nulla, che ti porta a rivalutare le priorità, capire davvero quali sono i principali motivi del perché siamo al mondo. Sicuramente non quello di ammazzarsi 15 ore al giorno di lavoro. Oramai in Italia siamo arrivati ad un punto in cui se non fai 1-2 ore di straordinario sei un lazzarone. Qua no. Qui se siete delle persone che volete farvi il vostro piccolo, il vostro minimo essenziale e vivere la vostra vita, vi piace pescare, tanto sport, gli hobby, kite, surf, surf e chi più ne ha più ne metta, è il posto ideale per voi. Tutto quello che arriva, se non è prodotto internamente dalle altre isole, è decongelato di qualità davvero un pochino scarsa. Non scarsa per loro, probabilmente noi italiani abbiamo dei minimi del buono, una cosa, che sono molto alti. Se siete abituati a mangiare cose molto ricercate, sicuramente non prendete Fuerteventura come meta ideale. propongono la paella perché agli italiani, al turista di turno, viene in Spagna e quindi paella manetta, ma mangiare la paella Fuerteventura è come andare a mangiare il gorgonzola a Trapani. Non venite a Fuerteventura a mangiare la paella, si mangia buonissima in tanti posti. Venite qua, mangiate la cernia, l'orata, la murena fritta, mangiate la capra, il simbolo di Fuerteventura è una capra. Mangiate formaggio, ve lo fanno la piastra, ve lo fanno fritto, la carne di capra ve la fanno brasata, ve la fanno fritta, ve la fanno bollita, ve la fanno in tutti i modi. Mangiate il prodotto del posto, ma non a Fuerteventura, ovunque. Sappiate che il panino fresco, il giornale tutti i giorni, tutte queste piccole abitudini tipicamente italiane, qua dovete tutte riprendere. Cioè qua la gente fa colazione con un lecce lecce largo che è una sorta di caffè latte con un fondo di latte condensato e poi si mangia il panino col formaggio di capra e il pomodoro. C'è un po' di diversità. Un vantaggio sono i prodotti gluten free, è un paradosso. Siete celiaci, avete problemi di intolleranze, questo è il posto che fa per voi. Ci sono intere corsie prodotti gluten free, qua in un piccolo centro commerciale, una scelta come in 50 farmacie messe insieme in Italia. Ma io vi parlo di Milano, non vi sto parlando di paeselli magari, Berbenno, su a Bergamo, nelle montagne. Parliamo davvero di città importanti italiane, prodotti ultracontrollati gluten free. Un punto invece a sfavore, i canari sono abituati ad avere un prodotto scadente. Già loro lo sanno, ci sono tante persone facoltose, ricche anche qua, non è che sono tutti contadini. Io credo che girino molti più milioni di euro qua alle canarie che in Italia, non sono l'unico che lo pensa. Ad esempio i cinesi costano il doppio che in Italia. Cioè qua andare in un negozio cinese, andare in un negozio, non so, tipo del Rua Merlin costo uguale, vendono la stessa roba con la differenza che del Rua Merlin vendono un prodotto che da 1 a 10 è scarso 6. Il cinese vende un prodotto che da 1 a 10 è scarso 10. In Italia i cinesi non vendono tante porcherie, qua non vendono davvero la base della base. Però qui tendono ad importare tutta merce di poca qualità. Ho due società, un giorno vi parlerò anche di quello, una delle mie due società importiamo merce dall'Inghilterra, dall'Italia, tutta roba comunque di alta qualità. Ed è stato difficile entrare in questo mercato perché la gente è proprio abituata alla bassa qualità. Quindi non si fida neanche, cioè qui è tutto contraffatto. Tranquillamente vendere le Nike tarocche, puoi tranquillamente vendere una cintura Vuitton falsa. E ci sono delle leggi antitrust, basta andare in un qualsiasi mercato e si vedono cose davvero un po'. Ci sono anche dei negozietti in prima linea a 5.000 euro al mese di affitto che vendono cose che credetemi sono tutto fuorché originali. Quindi attenzione alla qualità, non ci sono preparatori di auto, volete fare una mappatura della centralina, un asset a una macchina, una mega gita con le moto d'acqua a stare fuori due giorni. Qua è tutto standardizzato, pochi prodotti, quelli che ci sono arrabattati, la gente si arrabatta un po'. Una buona percentuale di persone che si trasferisce alle Canarie, in Italia era architetto e qua diventa pizzaiolo e quindi potete immaginarvi poi cosa ne consegue, cosa ne salta fuori. C'è questa mentalità molto italiana perché negli inglesi e negli tedeschi non lo vedo. Del me ne vado lì, tanto lì sono indietro, faccio quello che voglio e mi reinvento. Mi reinvento? Sì. Qui puoi fare del tuo hobby, il tuo lavoro. Non potete pensare, non avete mai fatto i pizzaioli in vita vostra o vi fate la pizza in casa a voi, vostra moglie, a vostro figlio, una volta a settimana di poter aprire una pizzeria e mettervi a fare 80 pizza al giorno. No, ma poi infatti è una pizza che fa schifo, cioè a Fuerteventura si mangia una pizza che è migliore che quella che mangi nella maggior parte dei ristoranti italiani, perché ci sono tre pizzerie a Fuerteventura che si fanno la gara a chi produce una pizza più buona delle altre e sono fantastiche, cioè è più buona da loro che mangiarla in Italia. Infatti a me fa sempre dispiacere andare da uno piuttosto che da un altro, cerco di girarli tutti e tre perché sono una più buona dell'altra. Un vantaggio, l'assenza di animali velenosi, ma qua c'è il deserto, la sabbia del Sahara, viene in mente il re scorpione, cobra, tarantole, non ci sono animali velenosi in tutta l'isola, non ci sono meduse, c'è solo la caravella portoghese, un medusone, penso che ne abbiano avvistate due o tre negli ultimi dieci anni. I mari sono molto controllati e tenete conto che abbiamo una costa di 600 chilometri, quindi non è poco. Non ci sono le meduse come in Italia, non rischiate di prendere la pizzicata, tenetene in conto quando vorrete decidere di venire in vacanza qua. La gente dice, cacchia ma ci sono gli squali, c'è un tipo di squalo che dovrebbe essere il martello, ma non fa nulla, è più buono di un'alborella. Quindi sereni, andate anche nell'entroterra, camminate, è più pericoloso stare a Milano che stare a Fuerteventura. Quindi un ottimo punto a favore, punto a sfavore l'acqua non potabile. Qua fino a 50 anni fa non c'era praticamente nulla e qui adesso è venduta come acqua potabile, noi ci irrighiamo le piante. È un'acqua che ha un residuo fisso allucinante, quando gli fanno smosi inversa, diventa nera. Non bevete l'acqua del rubinetto, vi vengono i calcoli ragazzi. Lo svantaggio è, lo potete usare per lavarvi i denti, lo potete usare per farvi la doccia, ma già per farvi un piatto di pasta dovete usare acqua del boccione. 8 litri di acqua costano meno di un euro. Armatevi di forza e di un baule bello capiente. Ultimo punto a favore sono le tasse. Discorso trito e ritrito dai venditori di nie, da chi deve vendervi per forza qualcosa. Io nel mio canale non vorrò vendere nulla delle mie società, proprio l'obiettivo di questo canale è non mischiare il lavoro con il tempo libero. Devo essere imparziale fino in fondo. Le tasse nel governo delle Canarie sono un pochino più basse perché rispetto alla Spagna hanno un governo loro autonomo e riescono a dare la possibilità di attirare investitori. Il pensionato è un investitore, ha una rendita fissa che gli entra tutti i mesi e quindi per il governo è un investitore. La sanità qua è perfetta. Si lamentano tanto Gran Canaria e Tenerife, ma probabilmente perché là c'hanno un milione di abitanti. Fuerteventura è l'ospedale con la sanità migliore che ci possa essere in tutto l'arcipiego delle Canarie. Abbiamo un ospedale a Puerto del Rosario, la capitale di Fuerteventura, un'isola di 120 km per 50 km. Non stiamo parlando di una roba gigantesca, è una piccola Milano. Peccato che c'è 150.000 abitanti. Ci sono 200 abitanti ogni chilometro nelle Canarie. L'isola è davvero molto preparata ai pensionati, è una sanità che lavora molto bene. Non c'è bisogno di pagare il ticket, funziona molto bene. La defiscalizzazione della pensione porta a tutti i dipendenti privati e non dipendenti, ex dipendenti pubblici, un piccolo miglioramento con il vostro introito totale. C'è chi ve lo fa a pagamento gratis, c'è il mio cugino che ve lo fa 100 euro, chi ve lo fa 1000. Informatevi, potete farlo gratuitamente. Non pagate e volete fare il trasferimento in 4348, affidatevi a qualcuno che ha un buon nome dietro, qualcuno che vi può consigliare, magari un parente che l'ha già provato. Pagate per l'accelerità della cosa, ma se avete tempo farlo fare a uno che ci impiega 6 mesi o farlo a voi che ci impiegate 6 mesi, fatevelo voi. Non buttate via soldi. Siamo tutti stati spolpati. Io per primo, non esiste italiano che non è stato fregato nel trasferimento Fuerteventura. E ve lo dico, io in prima persona, anche io sono stato truffato da un altro italiano. Attenzione, sono gli italiani che truffano. Si paga sempre una tangente, la soffiata, quindi io oggi la posso chiamare tangente perché mi rendo conto che davvero era una cosa molto stupida. Sul momento mi sarei ritrovato senza casa. A volte si diceva con 1000 euro a Fuerteventura si può abitare. Alle Canarie 1000 euro di pensione una coppia vive. Poi c'è chi dice che non ne bastano 2000. Ogni persona, ogni coppia abbia i propri costi. Noi abbiamo due Labrador adulti, grandi, da 30 a 8 kg l'uno, abbiamo un gatto, abbiamo case di proprietà. È il lato a nostro favore, ma noi non arriviamo a 1000 euro al mese di spesa. Mettiamo dentro anche i costi della macchina, assicurazione, poi c'è l'assicurazione della macchina qua è ridicola. Appassionati di auto, compratevi le auto e venite qua a Fuerteventura. Il più ovvio, ma che volutamente ho lasciato come ultimo punto, è la lingua. E vabbè, ma aggiungo una S è fatta. No, ci sono un sacco di falsi amici come burro, asino, perché il burro è la mantechiglia. Largo vuol dire lungo, salida vuol dire uscita. Rischiate di andare a dire a una tipa che c'ha un bel naso, quando era al tavolo e vate a dirgli che c'ha un bel c***o. No vabbè, scherzi a parte, non conosco nessuno che si è fatto un corso in Italia in vista di un trasferimento alle Canarie. A meno che ve lo siete fatti obbligatoriamente con la scuola o con l'università. Costano, per gli anni non siamo tanto di queste cose, di aver l'insegnante che ti arriva a casa. Ica l'ho studiato benissimo, lei era molto brava a scuola, lei è venuta qua molto facilmente e l'ha imparato. Io non sono portato per le lingue, non l'ho mai studiato. In due mesi non capivo niente, televisione a manetta, go go, terzo mese lo parlavo. Se poi lavorate non solo con il turismo, ma lavorate anche con la gente del posto, in qualche ditta del posto, sono tutti spagnoli, in automatico imparerete lo spagnolo. Ma non prendetelo sotto gamba, io conosco persone che sono qua da cinque anni e non sanno dire hola, buenos dias, che tal. Spero di avervi fatto un sunto generale, molto semplice. Penso che sia più unico che raro avere qualcuno alle Canarie che voglia essere il più sincero possibile, che parli comunque la vostra lingua. Non abbia nulla da vendervi, quindi venite, sì, se ti ben accetti, non venite perché questi sono i limiti. Siamo tutti diversi e quindi sarebbe stupido dire a tutti, come fa tanta gente, non venite alle Canarie. Oppure è ancora più stupido dire alla gente trasferitevi alle Canarie. Sono paradisi, ma allo stesso tempo sono inferni. Io conosco gente che è venuta qua con 100.000 euro a 30 anni e si è mangiata fuori tutto in tre mesi. Seguitemi se vi va e continuiamo questi discorsi. Buona giornata ragazzi, vado a prendermi un po' di sole e fammi un bel tuffo la facciazza vostra.